Bisogna ragionare nell'arco delle due partite, fermo restando che è una partita questa, tutte, ma soprattutto questa dove ci vorrà un cuore molto caldo, ma soprattutto una testa molto fredda sotto questo punto di vista, per mille situazioni. Soprattutto non si può ragionare nell'arco delle due partite, bisogna pensare alla partita di domani, non pensare che ce n'hai un'altra, perché è determinante la prossima. Loro hanno costruito tante delle loro fortune in casa e domani cercheranno di continuare e noi dobbiamo fare esattamente il contrario. I tifosi non incidono sul risultato, però fanno parte dello spettacolo calcio e soprattutto la cosa brutta è che non possono venire per altri motivi. Io penso che il calcio dovrebbe essere che uno può andare, tutti possono andare in trasferte, tutti possono andare in casa. Già il fatto che qualcuno non possa andare da qualche parte, tutti i divieti, la dice Lunga, fu una bella azione sotto questo punto di vista. Proprio le due cose, era peggio invitarne solo 200 e gli altri dovevano stare a casa, sia da una parte che dall'altra.